Musica Giudo, argento per Maria Centracchio nell'European Cup Junior, l'European Cup di Pordenone di Catà, lotta, i prossimi appuntamenti dell'attività agonistica tra nazionale. Brilla l'argento di Maria Centracchio a Coimbra nell'European Cup Junior. Quattro vittorie sulla portoghese Babchenko, sulla slovena Anja Stangar, l'inglese Pauwev e la canadese Jessica Kinkait hanno promosso la 19enne molisana alla finale dei 57 kg dove è stata superata dall'olandese Davy Kartaus per un secondo posto che replica il piazzamento dello scorso anno. Nella seconda giornata di gara ancora risultati positivi grazie ai quinti posti di Nicola Stamico e Melora Rosetta. L'Italia si classifica così al nono posto del medagliere con un argento, due quinti posti e cinque noni posti con Gabriele Melegari, Lorenzo Soverini, Sara Maria Romano, Daniela Raia e Giorgia Stangerlin. Medagliere dominato dall'Olanda davanti a Canada e Spagna. Ancora per il judo, buoni risultati da Pordenone per l'European Cup di Catà dove le coppie Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini del Kodokan Goshinjutsu, Alessandro Gavin e Giovanni Arrione del Gionno Catà, Andrea Fregnanne e Stefano Moregola del Camino Catà e Andrea Gianni Contini e Giuseppe De Stefano del Kimono Catà hanno conquistato il posto nella squadra per i campionati europei di Lignano Sabbiadoro. Domenica è stata anche la volta del Grand Prix di Catà del trofeo Villanova. I risultati completi sono disponibili sul sito federale www.filcan.it Passiamo alla lotta. Prosegui a pieno ritmo l'attività di preparazione delle squadre nazionali di lotta in vista degli europei signores del prossimo aprile. Gli azzurri sono impegnati in allenamenti collegiali internazionali che li prepareranno alla prova continentale programmata dal primo al 6 aprile a Banta in Finlandia. La greca romana si trova in Ungheria dove svolgerà due raduni, il primo a Budapest e il successivo a Dunavasani. Accompagnati dal tecnico Riccardo Magni sono stati convocati Davide Cascavilla per i 66 kg, Ciro Russo per i 75, Fabio Parisi per i 85 e Daigoro Timoncini per i 98. Lo stile libero si trova invece in Bulgaria per la precisione a Basco, dove rimarrà fino alla fine del mese per spostarsi direttamente a Banta. Con il tecnico Giovanni Schillaci ci sono Angelo Costa per i 65 e Carmelo Lumia per i 74. Per finire le ragazze della femminile voleranno a Tata in Ungheria il 21 marzo in compagnia del tecnico Filiberto Delgado. Ci sono Silvia Felice dei 48 kg, Francesca Mori dei 53, Carola Renero dei 58, Maria Diana dei 63 e Dalma Caneva dei 69 kg. Sempre per la notte è stata inaugurata la nuova pagina online della federazione dedicata alla videoanalisi disponibile all'indirizzo Darfish.tv. Questo nuovo strumento, consultabile liberamente via internet, è stato elaborato in collaborazione con la Scuola Nazionale Filcamere attraverso l'analisi, il controllo e la valutazione del comportamento degli atleti nelle competizioni. Attualmente sul sito sono stati caricati gli incontri di finali del campionato italiano sull'uodilotta stile libero e femminile debitamente analizzati. Particolarmente interessante è il menu di navigazione del sito, funzione esplorare che consente ricerche per categorie di peso, per tecniche, per punti, perci o presi o per tipo di vittoria. Concludiamo questa edizione del TG con un'intervista al preparatore atletico della Nazionale Italiana di Judo, Alberto Di Mario. Il ruolo del preparatore atletico, questo così è la dicitura professionale, il ruolo del preparatore atletico è un ruolo da cuscinetto, nel senso che è colui che crea un po' il fattore di collegamento di collante tra la parte tecnica e la parte prestativa, quindi cura l'aspetto fisico della prestazione, anche se poi ci sono molti aspetti che lo stesso preparatore tiene sotto controllo, non soltanto sull'aspetto fisico. Credo che la preparazione atletica in questo periodo storico rispetto al passato abbia acquisito un profilo molto specifico, quindi diciamo sport specifico, e di conseguenza nello sport come il Judo è difficile per chi non conosce il Judo, noi partiamo da uno step di vantaggio conoscendo, avendo avuto io come percorso agonistico, anche se molto marginale, una conoscenza specifica della disciplina. Quest'anno è un anno particolare perché con l'inizio della qualificazione olimpica il nostro obiettivo non è soltanto legato agli impegni principali, come in questo caso europeo e mondiali, ma anche proprio a tutto il circuito di qualificazione olimpica, motivo per cui la mia presenza sarà più vicina ad alcuni tornei di preparazione o di qualificazione olimpica piuttosto che alle gare veramente così, chiamiamole ufficiali. I prossimi appuntamenti della Filcan. Per il karate da venerdì 21 a domenica 23 a Biella si svolgerà il quindicesimo Open d'Italia. Nei stessi giorni in Georgia per il Judo si svolgerà il Grand Prix di Tbilisi. E c'è anche Rosalba Forciniti nella squadra azzurra che sarà impegnata in Georgia per la tappa del World Judo Tour. La 28enne atleta calabrese ritorna in gara nei 52 kg a 5 mesi della vittoria nell'Open a Roma. Ma rientrano in prima squadra anche Antonio Ciano negli 81 kg ed Elio Verde nei 66. Dieci gli atleti in gara a Tbilisi. Elio Verde nei 66, Marco Maddaloni e Andrea Regis nei 73 kg, Giovanni Carollo e Antonio Ciano negli 81, Walter Facente per i 90, Rosalba Forciniti nei 52, Edwidge Gwenda nei 63, Valeria Ferrari nei 70, Assunta Gallene nei 78. A seguirle ci sarà il direttore tecnico nazionale Raffaele Tognolo e gli allenatori Giuseppe Maddaloni e Dario Romano. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.